Siamo ridicolo! Come fate voi nobili selvaggi a divertire la vostra tribù? Con l'altra ruzzola! E cioè? Vieni, ce lo insegno! Allora, la regola è che non ci sono regole! Lonti e fai ruzzolare il tuo amico! Quindi posso dare pugni e cose del genere? Ci puoi provare! Ma che penso non sono mai stato sconfitto sul termore! Certo! Sì, ma non dovevi dargli un calcio!